Abbiamo l'onore di avere nel nostro mare la nave scuola Amerigo Vespucci, che ha fatto diverse centinaia di volte il percorso con gli Stati Uniti e con tutto il mondo. Nave scuola dove vengono allenati e preparati i cadetti che poi saranno i comandanti delle navi nel momento che hanno attuato tutta la sperimentazione e tutte le spiegazioni e tutte le attrezzature e soprattutto la buona volontà. È una famosa nave, un trealberi, come vedete, strano che sia in rada in questa maniera, lontana, forse sta aspettando di rientrare nel porto dove era già qualche giorno fa. Amerigo Vespucci, fantastico. Conosciuto a tutto il mondo. Grazie. Grazie. Grazie.